Come stai, chiedono come va, come va, come va, ma noi non cambiamo mai, no mai Una rivista, eh, mando un bacio alle fans, non mi metto le panze Ricky, vedi? Ma sì No, ma aspetta, aspetta, aspettiamo Mi dicono se possono chiudere il telegiornale, mi dicono se possono chiudere il cellulare Ma apro conti fra divento un conte, conte, come fai dicione?